Questa che vedo alle mie spalle è la Biblioteca Comunale di Penne, inaugurata lo scorso 22 di maggio. Oggi torniamo a parlare proprio di questo perché l'associazione Abbattiamo le Barriere Onlus di Penne ha notato che da quanto è stata aperta non c'è la rampa per l'accesso ai disabili. Allora andiamo a sentire i rappresentanti proprio di questa associazione. Sì, ancora una volta Penne ci troviamo di fronte a delle aperture non a norma senza badare minimamente all'accessibilità di tutti. Essendo una biblioteca, essendo il diritto allo studio, il diritto alla cultura, un diritto che aspetta a tutti, non vedo perché oggi noi appena non possiamo entrare in biblioteca. Intanto queste sono le due mail inviate dall'associazione sia al Comune che alla Regione Abruzzo e a loro volta la risposta è avvenuta solo dalla Regione Abruzzo che ha detto di mettersi in contatto col Comune per la realizzazione e l'abbattimento di queste barriere architettoniche. La Regione Abruzzo è dove ci dice che per loro il problema non sussisteva però provvederanno col Comune a vedere la situazione, ma oggi nel Comune e nella Regione ci ha fatto sapere nulla. Noi siamo disponibilissimi a parlare della possibilità di poter aiutare gli esercenti o comunque chi ha la volontà di poter rendere accessibile ogni negozio, ogni piccola attività alle persone che hanno qualche difficoltà motoria. Penne siamo abbastanza famosi, però siamo aperti non solo a Penne, ma anche Loreto, tutta l'area Vestina. Se voleste aiutarci in questo, noi saremmo felicissimi di aiutare con la nostra collaborazione. Noi ci siamo sempre attivati con le attività, con le raccolte fondi, proprio per sensibilizzare tutti quanti a un problema che è grande, cioè le barriere architettoniche, perché anche se i nostri paesi sono bellissimi ma spesso sono inaccessibili.